Ho tre minuti e mezzo, eccolo qua. Allora Mauro, lo diciamo il cognome? Merlo. Bolognese o diverso? No, no, sono abruzzese. Di dove? Vasto. Quindi vastese, la provasto. Ero bambino, la provasto era in serie C1, alla domenica davano nei risultati, la provasto. Che maglia ha? Come vive un abruzzese a Bolagna? Quanti anni sono? Tantissimi, io ho compiuto due anni a Bologna. Senta, ma se a metà del facciamo una gag e le rugo la pistola? Eh, non è il caso. Cosa succede se non fosse qualcosa di concordato? Ma, allora, non lo faccio, ma adesso mi avvicino e gliela tolgo. Vengo denunciato? Eh sì. Ma in questo senso la guardia è un pubblico ufficiale? No. Ora, no, adesso siamo praticamente... Via di mezzo. Io appena ho preso una multa incredibile doppia all'autogrill, avevo la macchina storta, più erano da tre ore l'obbligo. L'ho presa male, sono stato denunciato perché ho pubblicato il video. Quindi mi aspetta comunque una condanna per oltraggio e diffamazione a mezzo soggio. Ovviamente non lo faccio, Mauro, ma se io dicessi peste e corna non di lei ma del suo lavoro, lei è equiparabile a un pubblico ufficiale o è un semplice cittadino? Allora, noi praticamente... Proprio in questo caso. Se io le dicessi, gliene dico una e faccio i puntini. Se io le dicessi, ma il vostro lavoro è DM, nel senso che stiamo parlando da una mezz'ora di una situazione che di per sé è risibile. Cioè, lei è un cittadino. Certo. Non è un pubblico ufficiale. Non scatta un aggravante. No, ma anche se, diciamo, con le ultime cose che ci hanno concesso, sembra, ma questo sembra perché le cose vanno sempre prese con le pinze, che durante lo svolgimento del nostro servizio dovremmo ricoprire quella carica. Mauro, una cosa sul filo del surreale. Immagini che lei adesso, stasera, compia un reato, un reato sessuale. Col suo lavoro avrebbe un aggravante? Parliamo proprio, non so, una cosa, non è neanche da pensare, un episodio di pedofilia. Col suo lavoro, proprio con la divisa, eccetera, no? Adesso andiamo in un albergo, come fossimo in Oriente. Ha un aggravante avendo una divisa o no? Credo di sì. Dal momento che indosso una divisa, quella va sempre rispettata. Qual è il percorso, Mauro? Io ormai da disoccupato, evitato, eccetera, eccetera, domani provo a fare il suo lavoro. Quanto tempo mi ci vuole? Qual è il percorso da scuola? Il percorso ci sono, diciamo che ci vogliono parecchi mesi perché bisogna andare al poligono, bisogna produrre una serie di documenti, fare le prove, tre prove di tiro, conseguire il, tra virgolette, il patentino, insomma, superare queste prove. Poi ci sono dei precorsi prima di essere assunti. Sono felici le guardie, io non ho davanti a lei tutto il suo mondo. Voto è il suo lavoro. Voto di Mauro e voto medio. Ma, diciamo che è un lavoro un po' difficile, da prendere un po' con le pinze. Voto sei? Sei, sei perché le ore sono tante. Bravi.